Buonasera a tutti, post gara di Pisana-Canarini, partita terminata con il punteggio di 5-0, siamo qui con il direttore sportivo e l'allenatore della Pisana. Iniziamo con il direttore. Direttore, una vittoria netta sui primi in classifica, ovviamente l'umore è alto dopo questo match. Buonasera, siamo molto contenti della prestazione ad altissimo livello della nostra squadra, ha tutto funzionato, è veramente una grande serata. Noi ci crediamo in questo gruppo, siamo una realtà importante, al momento ci godiamo questa grande vittoria, poi per il futuro vedremo, comunque siamo molto ottimisti. Quindi c'è molta fiducia già a cominciare dalla prossima partita, si guarda in alto? Beh sì, i presupposti sono questi, intanto ecco ci tengo, sia io che il mister Violini, a dedicare la vittoria al nostro mister che sta in vacanza a Miami e gli dedichiamo la vittoria. Va benissimo, sentiamo invece il mister che sarà sicuramente contento dei suoi ragazzi dopo questa serata. Siamo molto contenti della vittoria e della prestazione dei ragazzi, ci abbiamo vittuto fin dall'inizio, da quando siamo entrambi negli spogliatoi, abbiamo studiato bene la partita, sapremmo pregi e difetti della squadra avversaria a prevarsi una rossa tattica di gioco e ci chiediamo fino alla fine. Andiamo avanti per te per partita, però ci chiediamo fino alla fine. La mister sta a Miami. Va benissimo, quindi salutiamo tutti quanti il mister e il bocca al lupo per il cuore.